Attimi di paura alla piscina Crocodile di Monte San Savino, dove un bambino di appena 9 anni, residente a Camuci, è stato tratto in salvo dopo essere stato trovato in acqua privo di conoscenza. L'episodio è accaduto poco prima dell'ora di pranzo. Uno dei bagnanti che si trovava all'interno della struttura ha notato il piccolo e si è precipitato a soccorrerlo. Immediato l'intervento anche del personale della piscina che ha intervenuto portando il bimbo fuori dalla vasca, il quale era incosciente e in arresto respiratorio. È stato il bagnino ad iniziare i soccorsi. Poco dopo è arrivato il 118 con un infermiere, che è stato decisivo nel superare la fase di emergenza che il ragazzino stava vivendo prestando le prime manovre di soccorso, rianimando il piccolo che poco dopo ha ripreso conoscenza ed è tornato a respirare autonomamente in attesa dell'elisoccorso. All'arrivo di Pegaso è stato disposto il trasferimento del bimbo all'ospedale pediatrico Mayer di Firenze per ulteriori accertamenti. Sul posto presenti anche i carabinieri di Monte San Savino, i quali stanno conducendo ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e capire le ragioni che hanno causato l'incidente.